Buongiorno. Buongiorno. Lo sai chi sono io? Sto leggendo il giornale. Mi manda Don Carmine. Ah sì? Ritiratevi o sarà peggio per voi. Don Carmine appartiene al passato. In Sicilia da quando ci sono io le cose sono cambiate. Don Carmine parla una volta sola. Se ne vada, se ne vada. Stavo leggendo il giornale io. Quello che devo dire l'ho detto. Arrivederci. Senti, mi devi fare un favore. Il figlio di Don Calogero deve morire, ma stavolta te ne devi occupare tu personalmente. Deve essere un lavoro pulito. Non vi preoccupate. Per me è un piacere servire a voi. Ma va, posso andare a giocare con gli amici? Sì, però non tornare troppo tardi, mi raccomando. Ok. Ehi picciotto, tu vuoi un gelato? Vieni, vieni, andiamo, dammi la mano. Buongiorno. Che mica vuoi ora? Tuo figlio. Mi aspetta la macchina. mi aspetta la macchina. Avevi solo cinque anni. L'ho doiga. avanti. Senti, io, Don Calvi. E il dottor Sigli ha rifiutato la dottrina con noi. E si è già accortato con Don Calogero. Ah, è così. Poi, perché io non ne do Calogero, mi soffermo a fare della roba. E ora deve morire. Ci penso io. Ed è il dottor Sigli. che ne facciamo? Il dottor Sigli ha solo interesse a concludere l'affare. Quando Calogero sarà morto. Non può già che chattare con me.